If You Love. È una storia vera? Cosa sappiamo? If You Love ha appassionato molti telespettatori su Mediaset Infinity e si avvicina sempre di più al suo termine. In molti hanno amato le vicende di Ates e Leila e perciò sono anche in tanti a chiedersi se la loro storia d'amore sia reale, come successo per esempio per My On My Destini. Ecco cosa sappiamo. If You Love. La storia di Ates e Leila non è realmente accaduta. If You Love è stata trasmessa su Mediaset Infinity dove ha riscosso un ottimo successo. Sono stati tanti i fan italiani che si sono appassionati alla soap opera turca che è stata tradotta anche in altre lingue. L'amore tra Ates e Leila è piaciuto a tutti, nonostante gli intrighi e i contrasti che non hanno permesso ai due di conquistare la felicità facilmente. Per questo in tanti si sono chiesti se la loro storia sia vera, o se sia tratta da eventi reali, come è successo per My On My Destini, storia narrata dalla psichiatra che segue la protagonista Zen. Ebbene, in questo caso If You Love non è una storia vera e non è ispirata ad alcun evento realmente accaduto. La soap opera è una produzione originale scritta da Kubra Sulun e diretta da Ali Bilgin. I due hanno dichiarato in passato di aver voluto realizzare una soap opera che analizzasse dei temi che raramente sono stati trattati in questi casi, come la fiducia, l'amore per la famiglia ed anche le difficoltà che si incontrano nella vita. Per esempio è particolare la storia di Leila, personaggio principale che ha dovuto commettere atti discutibili nella sua vita per andare avanti, come per esempio organizzare delle truffe insieme al suo gruppo. Per volontà degli autori la storia si conclude con un bel lieto fine. If You Love. Le curiosità e l'ipotesi della seconda stagione. In Turchia, If You Love ha chiuso i battenti nel settembre 2023, dopo la messa in onda di 13 puntate da due ore ciascuna che hanno fatto compagnia al pubblico per tutto il periodo estivo. La soap opera è quindi piuttosto recente e potrebbe esserci ancora un margine per l'annuncio di una seconda stagione. Purtroppo però al momento non ci sono conferme in questo senso e gli autori non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Il fatto che If You Love non sia una storia vera, però, ne renderebbe più facile la prosecuzione. Gli attori protagonisti, Kheran Bursen e Afsanur Sankaktyutan, hanno dichiarato di essersi trovati molto bene sul set. Afsanur, interprete di Leila, è apparsa entusiasta per il suo personaggio e, come ha rivelato in più di un'intervista in Turchia, anche per l'ambiente positivo e sereno che si è venuto a creare insieme al collega Kheran. Tutte le riprese sul set sono avvenute ad Istanbul ed entrambi gli attori potrebbero essere pronti a girare una seconda stagione, ma per ora non ci sono altre informazioni in merito. Voi che cosa ne pensate? Avete seguito If You Love e vi è piaciuta la so? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.